Grazie a tutti. Scusate, intanto ho deciso di cadarsi nel posto più ostico in Perfio per l'Antonomasia, l'Inferno. Chiaramente era in compagnia, diciamolo, da solo si paventava. Tra i tanti dannati voglio concentrarmi su uno in particolare, ed ecco un'immagine assicurante. Questa. E anche questa. Non è una scena horror? Ebbene sì, Dante trova davanti a sé, in una fossa, il contugolino e l'arcivescovo Lugeri, dove il primo è condannato ad addentrare il clano del secondo, per l'eternità. Subito il contugolino inizia a raccontare della sua terribile morte, però quel che non può aver inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai, e saprai se m'ha offeso. Eh già, immaginate un nuovo anziano, con due figli e due nipoti, rinchiusi in una torre, lasciati morire di fame in una lenta e dolorosa agonia. Se ciò non basta, e disser, padre, assai ci fia mendoia, se tu mangi di noi, tu ne vestisti di queste misere carni, e tu le spoglia. Ebbene sì, qualcuno ha pensato che il contugolino abbia mangiato i suoi figli, ma non sarà questa un'interpretazione un po' azzardata? Non ci siamo chiesti solo una cosa, il perché di questa morte tanta croce. Il contugolino fu accusato da aver tradito Ghibellini, alleandosi con i guerri, per rendi conti personali. Ah, la politica! Ah, la politica!